salve a tutti e ben ritrovati con cittadini di ultuan niente vi beccate probabilmente un tot di video su alti elfi perché è giusto così sono la fazione più bella voi dovete guardarla dovete impararla dovete giocarla no sto scherzando semplicemente che mi sono divertito un po riprenderla in mano visto che era parecchio che non la giocavo detto questo come al solito io vi invito a lasciare un mi piace un commento per aiutare il video con l'algoritmo iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto in modo da essere sempre aggiornati beccare partite beccare news beccare tornei quello che volete live e detto questo trovate anche la pagina instagram e facebook giù in descrizione la possibilità di abbonarvi per accedere ai video in anteprima e tanti altri vantaggi e il server discord per trovare altri giocatori tornei e cose carine detto questo entriamo in partita torneo sempre di human body front line di quattro spearmen perché noi ci sono una front line bella solida e poi abbiamo teclis con rete e regrowth e ovviamente potion of charoy perché teclis perché a cavallo non costa troppo su poiana non mi piace per niente perché ho kindle flame ovviamente a kindle flame quindi aumenta del 20 per cento i danni da fuoco del mio esercito e dopo vedete perché e perché teclis perché ha delle stat buone non costa troppo quando è a cavallo e soprattutto la potion of charoy che non solo gli aumenta la resistenza al danno ma lo cura anche questo è molto buono specialmente in un caso come questo dove abbiamo bellacore che può andare a cecchinarlo o banalmente qualche altro lord mostruoso tipo archaon dei guerrieri del caos poi abbiamo un simpatico star dragon è l'ultimamente mi vedete giocare un sacco di dai che perché mi è tornata voglia di giocarli sono belli sono caratteristici gli alti elfi e ci vogliono ogni tanto poi abbiamo una delle mie combo preferite torcale dai system si resteranno ap e danno da fuoco e torcale danno danno da fuoco e flammable quindi danno a tutto quello qui sparano un 20 per cento di debolezza al fuoco più teclis a kindle flame che si attiva con rete quindi noi nettiamo qualcosa ci spariamo con loro e abbiamo torcale dai sister che fanno il 40 per cento di danno in più a quel a quell'unità lì che è stata nettata cioè sostanzialmente la cancelliamo dalla faccia dell'esistenza è bellissimo questa cosa poi abbiamo due lirian river per avere un po di mobilità due leoni vediamo se ho portato anche il terzo sì il terzo è qua nascosto nel boschetto e abbiamo dei white lions sul fianco perché voi vi domanderete ho messo i white lion sul fianco e i lancieri sul fronta prima di tutto perché queste sono unità di tier più basso quindi vanno benissimo anche contro la front line perché c'è caso che i guerrieri del caos vi portino non è successo in questo caso i caos knight caos knight che è vero che sono la ma è molto più interessante avere ap quindi io mi porto massa per bloccarle white lions che sono di più sono ap per combatterle e abbiamo risolto in più hanno una buona resistenza al tiro anche tra i 60 quindi anche se vengono aggirati resistono comunque il nostro avversario invece si porta due cagnolini qui più nel strider di slanesh insieme a questo dietro la mia formazione mia formazione che non ha una particolare back line da proteggere ho fatto notamente solo due aceri poi due marauder horseman e uno di slanesh e dei forsaken come front line e caos pawn poi dall'altra parte abbiamo una manticora una cocatrice e bellacore quindi un esercito che qua un bel nucleo elite nei volanti vediamo come andrà entriamo subito in game io mi porto avanti perché voglio ingaggiare con gli aceri il primo possibile questi li ho visti sicuramente anche questi qua si vedevano il mio avversario converge immediatamente nella back line la mia back line che comunque ha delle statistiche decenti e i cani non se la passano benissimo con gli aceri arrivano subito le sisters a tirare su e forsaken e torcaleda che switchano a tirare su le cav da schermaglia qui si mi sono fatto prendere da da un cagnolino anche se l'ho visto porto indietro i lancieri che può andare bene qui cosa gli è stato tirato frenzi ok al frenzi qua la mia il mio tiro sta comunque schermagliando bene qui i miei aceri al fine sono riusciti a liberarsi dai caos questi verranno presi adesso immediatamente appena finisco di uccidere queste cose qui qui i miei war lions insieme al tiro delle sisters ha macinato un forsaken l'alto war lions ha macinato l'alto forsaken e io ancora il drago con due soffi quindi ottimo qua una cav da schermaglia abbiamo andato praticamente in rotta i white lions hanno vinto contro gli health striders quindi sono molto molto tranquillo il mio tiro è vero che è qui ma si sta difendendo decentemente dai cagnolini come avete visto qui arriva il drago se ho chiesto di mandarle ancora in terror out qua parte un buon pit of shades sulle mie sisters e la mia mobility adesso sta ritornando in posizione sicuramente ho sacrificato un po i tiratori ma come vedete i torcaleda sono ancora decentemente full vita devo più che altro difendere teclis da bellacore il mio avversario ha perso tutto il supporto che poteva avere per le sue single entities qui ci sono i white lions del careis che stanno combattendo contro la manticora e contro la cockatrice arriva anche il drago a ficchiare alla cockatrice qui nel frattempo i war lions insieme ai lancieri che uccidono la fanteria rimasta di supporto qui abbiamo degli alieni arrivas che sono andati anche forse un po troppo fuori posizione qui abbiamo i torcaleda che sparano a bellacore arrivano i cagnolini e arriva la cockatrice purtroppo adesso queste unità qui vanno gestite in qualche modo sono tante sono tre singole entities volanti e io soltanto il taghetto che sta qui gestendo la manticora tornano indietro gli spearman il danno ai torcaleda è stato fatto così come qua alle sisters sono state alla fine gestite ha fatto di tutto ha trovato le caspone i suoi tiratori e quant'altro per poterle uccidere qui è vero che arrivano gli strider di slanish intorno a teclis ma teclis credo che si curerà a breve anche perché c'è ancora il drago qui bello tranquillo e sereno qui i war lions che caricano all'infinito arrivano i cosi soffio sugli striders per cancellare completamente la mobility teclis si prende un info e poi si è tirato addosso un regrowth un po sprecato forse ma è ottimo questo punto vedete come non mando il drago combattere bella core fortunatamente è tornato teclis si è preso un altro danno ma mando i war lions scusate e gli alirian rivers per gestirlo dall'altra parte ho vinto dappertutto questo punto c'è solo da gestire la coccatrice la manticora è qua che si va a suicidare devo stare attento a blobbare troppo perché sennò bella core mi massacra ma fortunatamente qua c'ho 84 speed su teclis mi porto a spasso un po bella core alla fine un po di roba è tornata al mio avversario sono tornate anche le sisters qui ci sono dei marauders purtroppo l'importante è gestire la mobility per il resto non c'è particolare problema accompagno fuori caos scusate i cagnolini del caos arrivano agli aliria rivers a bloccare a terra a bella core ma non c'è nulla da fare qui vedete come adesso mi riposiziono tranquillamente sono tornate anche torcaleda che massacrano gli striders che caricano dei lanceri proprio a suicidarsi qui vengono mandati leoni a gestire i marauders ci sono le sisters che stanno sparando credo la manticora no stanno sparando nelle chiappette questi al striders e a questo punto è rimasto sostanzialmente la coca tris bella core e le due cav da schermaglia che possono fare ben poco visto che il mio tiro è tutto bello che salvo mi metto in una posizione in cui dovrei riuscire a difenderlo abbastanza tranquillamente il drago cosa che sta inseguendo non lo so qua vuole uccidermi war lions che porto subito indietro si porta portata dei torcaleda e incominciamo a tirare le freccettine infuocate il mio drago ha ancora un soffio quest'altra parte c'è teclis che viene ingaggiato alla coccatrice ma coccatrice che si becca subito il tiro in risposta delle sisters come vedete sono abbastanza spreddato con giusto questi lanceri che proteggono le sisters ma senza esserci sopra la mia mobility si preoccupa che non torni niente qui arriva belacore mando i leoncini che hanno un bel po di massa lui cerca di uccidermi il tiro giustamente ma a questo punto anche la sua schermaglia non è che può fare moltissimo qua la manticora l'abbiamo sostanzialmente uccisa la coccatrice l'abbiamo mandata al creatore e a questo punto c'è teclis che credo utilizzerà qui l'abbiamo mandata definitivamente in route la coccatrice a morte a questo punto è tutto contro bella coberlo perché continuo ad inseguire torcaleda non so quanto gli convenga a sto punto anche perché il mio teclis c'è ancora 1400 punti vite bello sciallo qui vedete sembra un blocco ma in realtà c'è un lanciere e due unità di massa i tiratori sto cercando di portarle via qui porto via i white lions arriva il drago che soffia sulle unità blobbate arriva anche il tiro delle sisters e abbiamo bello che salutato anche questa unità di schermaglia bella che nel frattempo è alle prese con i gattoni e i lancieri è lì che si diverte sono tornati anche i torcaleda e a questo punto sister e torcaleda gli sparano addosso fanno più danno a se stessi che altro arriva anche il drago i leoni li ho portati via perché stavano per andare in route vado ad inseguire teclis e a questo punto facciamo un bel giochino gli ha tirato un altro infiblin foe ma a questo punto me lo porto a spasso è andato in disintegrazione perché abbiamo mandato in route anche in marauder anche perché qui c'è un bel draghetto che ancora è fulbita che sta cercando di picchiarlo a questo punto lasciamo che lo picchi il drago e direi che abbiamo fatto arrivano anche gli aceri a sparargli addosso sembra che facciano più danno al drago che altro decisamente e bella cosa sia bello che salutato teclis non si è ripagato ma ha fatto quello che doveva fare il drago ha fatto bene considerando che ancora aveva più di metà vita cavalleria leggera che hanno fatto loro war lions che leoni da guerra che sono spettacolari white lions che hanno fatto bene uno è stato più chill i tiratori e guardate questi tiratori qui questi qui costano 650 hanno fatto quasi tre volte il loro valore le sister un po' di meno perché costano di più sono state sicuramente bersagliate di più però è una combo che vi permette di avere due aceri molto forti più facili da difendere e poter schierare tanta chaff il mio avversario invece ha avuto le cav che non si sono comportate al top le cav da schermaglia sono state completamente neutralizzate i cani invece un po' meglio beh la coro ha fatto il devasto ma probabilmente non si è ripagato comunque la coca triccia decisamente non si è ripagata e anche la manticora detto questo io vi rinnovo a lasciare un mi piace ed un commento per aiutare il video iscrivervi al canale per non perdervi tutte le prossime uscite le pagine social giù in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao